L'Italia per un cattolico cresciuto in Baviera non è mai un paese del tutto estraneo. Parola di Papa Emerito che ancora una volta testimonia l'amore e l'attenzione per il nostro paese, approfittando dell'invito di Alessandro Acciavatti a ripercorrere i rapporti intrattenuti da prefetto della congregazione della fede prima e da pontefice poi con i presidenti della Repubblica. Occasione il libro Oltre Tevere per i tipi della PM, ampio e documentato volume che ricostruisce le relazioni tra Vaticano e Quirinale dal dopoguerra ad oggi. Tra saggi, memorie e contributi tra cui anche un chirografo di Papa Francesco emerge uno scritto di Benedetto XVI datato 17 agosto 2016. Dai ricordi del Papa Emerito il primo impatto con la città eterna visitata per la prima volta nel 1962 insieme al fratello e ad altri amici. L'ammirazione per un paese ineguagliabile per cultura e storia assegnato da quello che chiama lo strappo profondo tra laicismo e cattolicità. Nelle sue parole l'Italia di Don Camillo e Peppone, il dopo concilio, ma anche i primi contatti con il mondo culturale e politico italiano tra cui si stagliano Don Giussani e il movimento ecclesiale da lui fondato, Comunione e Liberazione, Rocco Buttiglione e il filosofo del noce. Ma è sugli inquilini del Quirinale che Ratzinger si sofferma. Da Cossiga, spirito inquieto e appassionatamente vivace, votato al dialogo anche oltre i confini dell'ortodossia. innamorato di Rosmini e impegnato nell'improbabile riabilitazione dell'eretico Giansenio. A Ciampi, definito figura simpatica e umanamente convincente, a Napolitano, per cui benedetto ha parole commosse che raccontano di un rapporto profondo e autentico, carico di stima reciproca, costruito negli anni del suo pontificato. Per l'Italia ha rappresentato una fortuna, scrive Ratzinger, essere guidata in tempi difficili e trascogli di ogni tipo da un uomo così. Infine l'omaggio a tre amici, Marcello Pera, il Paolino Don Antonio Tarzi e soprattutto Giulio Andreotti, i cui humor e forza d'animo hanno sempre impressionato il Papa Emerito negli anni in cui lo statista subì oltraggi pubblici mostruosi e fu ferito nel suo onore e nella sua dignità.